tutto bene come va e bentornati sul mio canale come sempre prima di iniziare il video vi ricordo di iscrivervi qui sotto al mio canale di youtube di attivare anche la campanellina così sarete sempre aggiornati su tutte le prossime novità informazione molto molto importante quindi un brevissimo video solo per avvisarvi che c'è la possibilità di fare lo stralcio dei contributi e per fare ciò bisogna inviare una domanda adesso vi spiego tutto quanto tutti gli iscritti alla gestione dell'inps artigiani commercianti agricoli committenti professionisti della gestione separata per esempio possono inviare all'ins la domanda per il ricalcolo dei debiti contributivi stralciati quindi è agganciato a un'altra questione segnatevi sul calendario tutti quanti abbiamo un calendario come dico sempre in cucina tutti abbiamo un calendario segnatevi questa queste due date molto importanti la richiesta deve essere trasmessa entro la scadenza del 10 di novembre per poi pagare la somma che è dovuta entro il 31 dicembre 2023 infatti l'inps con la sua circolare numero 86 2023 ovviamente che pubblicata sul suo sito internet ci fornisce tutte le istruzioni e indicazioni per richiedere l'annullamento dello stralcio dei debiti contributivi fino a mille euro con anche quindi con il conseguente ripristino della posizione contributiva in questo modo tutte queste persone potranno saldare i debiti stralciati in un'unica soluzione oppure ancora meglio in rate mensili da versare come vi ho detto prima entro la scadenza del 31 di dicembre quindi chi intende fosse intenzionato avversare quanto dovuto per ripristinare la propria posizione previdenziale dovrà inviare una domanda all'inps quindi non è che l'inps dice a tu puoi farlo tu non puoi farlo dobbiamo essere noi a muoverci di conseguenza per sbloccare diciamo questa situazione e sarà possibile richiedere il conteggio dei debiti stralciati se alla data dell'annullamento i debiti sono oggetto di adesso vi dico rateizzazione concessa dall'agente della riscossione o definizione agevolata ancora in corso procedimento giudiziale teso ad accertare la fondatezza della prestazione dell'istituto intimazione di pagamento o azioni esecutive dell'agente di riscossione come vi ho detto prima la circolare dell'inps contiene tutte le istruzioni da seguire per la presentazione della domanda di riconteggio dei debiti annullati quindi l'inps ha praticamente predisposto due modelli di domanda e sono questi qua che adesso vi dico il primo è il riconteggio dei debiti annullati stralcio dei debiti di importo residuo fino a 1000 euro risultanti dai singoli carichi che sono stati poi affidati alla gente della riscossione dal primo di gennaio 2000 al 31 di gennaio al 31 dicembre 2010 e secondo il riconteggio dei debiti annullati stralcio dei debiti di importo residuo fino a 1000 euro risultanti dai singoli carichi affidati alla gente della riscossione dal primo gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 in questo caso adesso va bene non vi sto raccontare tutta la storia di come fare cosa inserire nella domanda comunque in linea generale quando si fa domanda gli interessati dovranno indicare il numero della cartella di pagamento avviso di addebito oppure il periodo eccetera eccetera selezionare la modalità di pagamento quindi o unica rata o più rate impegnarsi a effettuare il versamento integrale della somma dovuta a titoli di contributi e sanzioni civili entro come vi ho detto prima il 31 dicembre 2023 e poi eventualmente quarto punto dichiarare l'importo eventualmente versato dal primo gennaio 2023 fino all'annullamento alla data di annullamento del 30 di aprile 2023 quindi per ultimo per chiudere ricordatevi la data la scadenza per la richiesta che deve essere trasmessa entro il 10 novembre 2023 utilizzando proprio tutto il sistema che ha messo l'inps a disposizione poi comunque qui sotto nella info box del video vi lascio il collegamento diretto alla circolare dell'inps la numero 86 così se volete ve la potete andare a leggere con questo è tutto io vi ringrazio per avermi guardato ricordatevi di iscrivervi qui sotto al mio canale di youtube di attivare anche la campanellina così sarete sempre aggiornati su tutte le prossime novità e noi ci vediamo in un prossimo aggiornamento sempre qui sul mio canale di youtube a presto ciao 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 ciao